ciao a tutti è un piacere conoscervi siamo qui per la prima volta ad esca è schenata più o meno quando è nato il progetto fus però per noi la prima volta qui e sono appunto qui con l'amico e anche ex collega diego maniacco per presentarvi velocemente la storia la storia del progetto io lavoro per un ente pubblico la provincia di bolzano lavoro lì come ispettore tecnico e dal 2016 ho diciamo l'onore di poter coordinare il progetto forse ripensando a quello che accadeva prima o quelli che sono stati anche i trascorsi del mio periodo di studi pensando all'87 ad esempio quando iniziavamo ad usare i primi pc primi compatibili nelle scuole avere un pc ed avere una dotazione software la stessa dotazione software anche molto semplice che a una scuola aveva un certo costo i pc di allora costavano attorno ai tre milioni e mezzo di lire quindi diciamo era quasi improponibile per ciascuno sistemi operativi non liberi programmi di video scrittura che sicuramente alcuni di voi avranno visto fogli di calcolo a fianco ho indicato anche i prezzi di ciascuno ovviamente se sommavate il costo dell'hardware poteva essere anche un pc compatibile quindi non è non proprio magari un olivetti di allora da tre milioni e mezzo e corredato con tutto il software necessario poi guarda caso il software tra i più interessanti per poter iniziare a programmare da quello che costava di meno questo era il compilatore per turbo pascal poi c'era c turbo c eccetera eccetera allora chiedevamo alla nostra prof ma i dischi sono lì siamo riusciti a procurarci a procurarci un pc e come facciamo a lavorare a casa con gli stessi strumenti che utilizziamo a scuola la prof ma non si possono copiare i pc poi li teniamo nell'armadio allora chiedevamo alla prof ma come si fa a copiare un pc un diciamo un dischetto e ovviamente il docente doveva doveva spiegarci come si come si copiava un dischetto docente di informatica chiudeva un occhio e ci facevamo la copia però lavoravamo nell'illegalità ecco che nel 2005 in provincia di bolzano si è deciso di cambiare un po paradigma quindi un taglio con il passato la politica era molto ricettiva in quel periodo la politica era d'accordo sono stati contattati tutti i dirigenti delle scuole adesso si era partiti con le scuole in lingua italiana ed ecco che quel progetto fosse i dirigenti erano d'accordo di fare questo cambio di partire con un progetto che veramente permettesse ai ragazzi di utilizzare anche a casa lo stesso software usato a scuola gli stessi software usati a scuola quindi sono servite delle persone diciamo coraggiose docenti adesso il primo della lista dall'ispettore per le materie scientifiche che purtroppo è venuto a mancare un anno fa ed altre persone anche dell'amministrazione che hanno dato il loro valido contributo per riuscire a partire con questo progetto che ovviamente non incontrava il favore di tutti però come vi dicevo i dirigenti erano d'accordo in questi anni grazie ai docenti sono stati raccolti qualcosa come 200 pacchetti software che non vengono diciamo dal dalla semplice scelta di un tecnico sono esigenze che partono dai docenti dicono noi avremo bisogno di un software che fa queste funzionalità e il gruppo FUS ha cercato tra i software disponibili quelli che erano diciamo che che corrispondevano le esigenze del docente abbiamo sposato appieno questo ciclo virtuoso che tutti conoscete evitando cicli viziosi come la peste di acquisto acquisto software lo usi e poi dopo tre anni ricompri di nuovo una licenza per lo stesso il software deve essere esattamente così qui riporto un adesivo di un'associazione germanica che si chiama digital courage che vi invito a vi invito ad andare a vedere un po il loro sito e loro tra i vari adesivi e fanno tantissimo materiale informativo per le scuole tra i vari adesivi mostrano quello che è il messaggio dei ragazzi il messaggio che i ragazzi danno è noi sappiamo fare molto di più che non solo cliccare un'iconcina colorata i ragazzi hanno bisogno di poter aprire il cofano della macchina di vedere che cosa si nasconde dietro le quinte e se ai ragazzi si fa vedere questo dopo i docenti stessi si stupiscono di che cosa sono in grado di fare noi parliamo molto di sostenibilità digitale è un concetto che abbiamo mutuato da dalla svizzera in svizzera c'è anche un centro di ricerca l'università di berna che si occupa proprio di sostenibilità digitale c'è anche un diciamo un gruppo un gruppo trasversale in parlamento che si occupa di sostenibilità digitale la sostenibilità digitale non è solo l'uso di software libero ma far capire alle persone che è fondamentale usare standard aperti contenuti aperti è fondamentale avere un libero accesso alle risorse sulla rete per raggiungere quello che di fatto se parliamo delle scuole è l'obiettivo di ogni scuola che quindi è quello di condividere la conoscenza con tutti. PUS non gira soltanto nelle scuole della provincia di Bolzano abbiamo 74 plessi in totale per un totale di 4500 macchine e 64 server che usano Debian con qualche pacchetto che abbiamo aggiunto noi per facilitare l'installazione l'abbiamo portata in una scuola provinciale di musica che vuole continuare con questa via di sostenibilità digitale l'abbiamo portato all'inizio in diverse scuole paritarie anche in particolare questo che è poi diventato il nostro centro provinciale di sostenibilità digitale che è un po' una la chiamo una nave scuola per poter mostrare come funziona FOS è tutto contenuto all'interno di un'aula abbiamo l'istituto Cornaro di Esolo qui c'è Luca Marco Longo non solo in foto ci siamo conosciuti oggi dopo 15 anni dopo 15 anni che l'istituto Cornaro di Esolo usa FOS io ho potuto conoscere Luca oggi per la prima volta perché ci siamo sempre sentiti al telefono ed ecco che il Cornaro di Esolo usa un server FOS in una rete mista con 40 macchine FOS nelle aule e macchine ovviamente con un altro sistema operativo nelle aule informatiche ma questo per dimostrare che appunto con un server Linux è possibile servire macchine con diversi sistemi operativi abbiamo liceo scientifico linguistico rodolico di Firenze e da poco da quest'estate abbiamo sentito non l'ho indicato qua scusate l'istituto Savoia ben in casa di Ancona che ha iniziato ad utilizzare FOS partendo da un'aula allora c'è stato riconosciuto effettivamente che in questi anni ma come tutti i progetti che sviluppano e usano software libero il fatto che abbiamo creato valore pubblico perché di fatto i soldi che abbiamo speso sono soldi pubblici e si sono trasformati in codice documentazione che ciascuno sulla faccia della terra può usare. Progetto Repubblica Digitale, la stessa Free Software Foundation Europe ci ha dato supporto diciamo morale in periodi difficili, l'open source initiative, il progetto di VeloPers Italia dove poi abbiamo pubblicato tutta la soluzione e poi progetti locali come la rete di sostenibilità dell'Alto Adige e da ultimo FOS è stato riconosciuto, accettato dalla Digital Public Good Initiative che è l'iniziativa che raccoglie un po' tutti i beni pubblici digitali, un'iniziativa internazionale e il riconoscimento è arrivato diciamo da poco. Allora non ci siamo inventati nulla e abbiamo seguito anche quanto tra l'altro la Commissione europea sta dicendo da un po' di tempo, le pubbliche amministrazioni devono fare investimenti dedicati all'acquisizione di software libero. Il Ministero per l'Innovazione ha ribadito e ripostato questo messaggio quindi possiamo dire che noi siamo a posto e quello che l'iniziativa Public Money Public Code della Free Software Foundation Europe ribadisce e alla quale tantissime associazioni identiche hanno aderito non fa altro che riassumere in quattro parole quello che noi forse primi in Europa come normativa nazionale sul digitale con gli articoli 68 e 69 diciamo. Le pubbliche amministrazioni quando acquisiscono software devono dare priorità all'acquisizione di software libero. Il software libero che viene acquistato deve essere pubblicato con una licenza aperta unitamente alla documentazione. Allora possiamo dire che questa cosa l'abbiamo fatta forse prima che uscissero questi articoli del codice dell'amministrazione digitale come tantissimi altri progetti di software libero che sono venuti prima di FOSS. Usiamo diverse piattaforme libere quindi non è tutto ristretto ad un server e a diversi client basati su Debian e farciti di software libero che usiamo nelle scuole. Abbiamo diverse piattaforme libere che girano su server che sono sotto il nostro controllo. Queste sono alcune. L'ultima che abbiamo messo in piedi è Peertube dove abbiamo iniziato a federarci con altre istanze di Peertube e ovviamente ci siamo confrontati con altri progetti. Zorin che so che a breve verrà installato in tre istituti veneti nella provincia di Rovigo con server FOSS. Progetto SODI Linux dal quale abbiamo preso spunto soprattutto per tutti i software che riguardano l'inclusione. Ci siamo confrontati quest'estate con il progetto PUAVO finlandese che usa i nostri stessi ingredienti quindi Debian sia lato client che lato server. Progetto Debian Edu e il progetto Linux Muster col quale ci dobbiamo ancora confrontare. Un progetto germanico e questo è un progetto svizzero che diciamo utilizza Debian su chiavetta e viene utilizzato molto per poter fare test a scuola. Quindi i ragazzi portano il loro device bene noi vi forniamo una chiavetta quindi in Svizzera forniscono una chiavetta che fa partire diciamo live Debian sul cui desktop poi i ragazzi trovano i test da svolgere. Al termine dei test la chiavetta viene restituita al docente e il docente scarica e corregge i compiti oppure viene semplicemente distribuita ai ragazzi per poterlo utilizzare a casa. Molto interessante anche questo come progetto che dà la possibilità tra l'altro di scegliere il window manager che uno preferisce tra i più utilizzati. Abbiamo avuto un grosso aiuto anche da parte dell'Albania da parte di Dashamil Hoxa che sta cercando di mostrare il progetto anche al di fuori dell'Italia. Ha fatto diversi esperimenti con sistema di virtualizzazione LX e LXD e ha scritto la documentazione, lui è bravissimo nel scrivere la documentazione nel fare corsi di tutti i passi necessari per installarsi un server i client via LXD. Recentemente abbiamo fatto una videoconferenza insieme all'ultima conferenza sul software libero Oskal in Albania dove ripercorre via video tutti i passi per potersi installare server e client. Siamo partiti con progetti di economia circolare, non buttiamo via niente, riutilizziamo se i pc ancora funzionano, poi Diego ce lo spiegherà molto bene. Questo hardware viene riutilizzato e specialmente durante il periodo della pandemia è stato riutilizzato per fornirlo alle famiglie. Viene utilizzato nelle scuole dell'infanzia, in particolare oggi siamo qui anche con una collega, Natasha Fattor, che lavora per le scuole dell'infanzia. Ovviamente quando si parla di digitale nelle scuole dell'infanzia si dice no per favore non anche lì, ma forse è stato introdotto per riutilizzare hardware datato principalmente. Ma Natasha invece, in particolare a questo link qui che poi vi lascio, è partita tempo fa con un progetto, e poi potrete parlare anche offline con lei, che permette e fa uso del digitale per permettere ai ragazzi di vivere meglio la realtà e il mondo che ci circonda. Forse è utilizzato anche in una cooperativa per servizi infermieristici di Merano, quindi comunque in ambito non necessariamente scolastico. L'abbiamo utilizzato per lo smart working e appunto, come ho detto prima, moltissimo ultimamente per dare nuova vita a pc che altrimenti sarebbero stati conferiti in discarica. Io adesso lascio la parola a Diego Maniacco che vi parlerà proprio di questo progetto. Buongiorno a tutti, School Swap nasce come idea, siamo nel marzo 2020, ci ricordiamo tutti penso il problema, lottown, scuola, chiuse e tutti a casa, eccetera. A Bolzano c'era un progetto di cui siamo qui, Paolo, io e altri parteciperavamo ed era attivo da diversi anni, quello che si chiamava, abbiamo chiamato Sportello Open Linux Shelter, perché c'era, era anche bilingue ovviamente, a Bolzano abbiamo tutto in bilingue, con cui proponevamo l'installazione di Linux alle persone, si presentavano pensionati, eccetera, l'avevamo già contattato negli anni, centinaio di persone. E sarà così tutto un gruppo, diciamo, omogeneo che gestiva questa cosa. Arriva il Covid-19, tutti a casa e noi dello Sportello diciamo, cosa possiamo fare? Allora, ognuno di noi a casa all'inizio, perché non si poteva girare, ha pensato, dice, beh, se io avesse una macchina me la pulisco, la installo a casa, cosa ci mettiamo? Ci mettiamo FUS e la prepariamo e la diamo a qualche famiglia che la chiede. Allora, ci siamo organizzati in questo modo, abbiamo contattato attraverso prima contatti in personale, poi un po' ufficializzati, poi qualcosa sulle televisioni, sui giornali, eccetera, hanno cominciato ad arrivare delle donazioni di computer vecchi. Avevamo un'associazione con cui siamo ancora in contatto, la ADA, associazione di diritti anziani che si occupava di anziani e quindi aveva diritto di muoversi in quel momento in cui nessuno, nulla si muoveva, giravano con le macchine e hanno cominciato a prendere i computer da chi li donava, li portava a casa nostra, noi facevamo pulizia, installazione di queste macchine in casa, con i mezzi che avevamo, dopodiché ritornava il mitico Rino Nuvola Rossa, prendeva il computer e lo portava a casa di qualcuno che l'aveva chiesto. Tutto funzionava, diciamo, in modo passaparola e così. Morale, siamo arrivati a, diciamo, elaborare e soddisfare una novantina di richieste nell'arco dell'estate, diciamo, dalla primavera fino all'estate. Qui abbiamo deciso di consolidare la cosa e di darci degli strumenti un po' più sostanziosi, sempre utilizzando FUS, allora la versione 9, che aveva queste sue applicazioni già testate e installate, di cui vi ha detto Paola, a cui noi abbiamo aggiunto una serie di tools, di strumenti, anche, per esempio, Teams di Microsoft, piuttosto che Jitsi, piuttosto che quegli strumenti che venivano richiesti dalle scuole per la didattica di istanza. Ci siamo anche iniziati ad attrezzare e attivare un'istanza di BBB, Big Blue Button, che è, con i soldi dell'UBZ, diciamo, del Linux User Group di Bolzana, abbiamo attivato questa istanza in cui le scuole potevano, diciamo, fare la classe e la lezione a distanza, senza usare obbligatoriamente solo i software proprietari più noti. Appunto, qua meditavamo e abbiamo, diciamo, allargato il giro delle associazioni, quindi ci sono aggiunte altre associazioni al gruppo. Abbiamo iniziato a spingere anche sugli organi politici per chiedere, diciamo, degli spazi e soprattutto delle donazioni. Abbiamo allestito un laboratorio, diciamo, presso ADA, che ci ha dato uno spazio, sempre la solita associazione, e questo laboratorio, dal settembre 2020 a tutt'oggi, diciamo, è operativo. Lì abbiamo fatto, diciamo, installato un laboratorio dove potevamo fare delle installazioni seriali con un server clonezilla, eccetera. Lo stesso impianto che usavano poi in FUS, quindi abbiamo semplicemente copiato e fatto nostro questa esperienza, unendo aspirapolvere, compressore, olio di gommito, eccetera, perché le macchine che venivano donate, ovviamente, avevano bisogno di essere riparate, sistemate, sanificate, pulite, perché arrivava di tutto e di più. Quello che veniva consegnato alle famiglie era in, diciamo, prestito d'uso gratuito all'inizio e poi dopo un po' abbiamo optato per una donazione definitiva e le famiglie ricevevano un computer funzionante pienamente e che potevano utilizzare a casa per la didattica a distanza. Nell'estate del 2022 la situazione era, diciamo, si era voluta e siamo arrivati ad oggi ad avere consegnato circa 700 e oltre computer, tutti funzionanti, insomma, di soddisfazione. I laptop sono ovviamente molti richiesti, ne abbiamo ricevuti pochi, ne abbiamo dati pochi, però questa è la situazione. Allora, questo progetto ha avuto un certo successo, come si è mosso, con una pagina web, come faccio ad arrivare a quel filmatino? È stata aperta una pagina web in cui si faceva la richiesta. Non si sente, questo è un filmato, diciamo, che pubblicizzava la cosa e l'attività. Diamo nuova vita alle persone e associata a queste persone. Hai un vecchio computer abbandonato in qualche angolo, dimenticato della casa e non sai cosa farne? Abbiamo una soluzione, portalo da noi. Noi facciamo parte del progetto SchoolSwap, diamo nuova vita a vecchi computer, sistemandoli e dandoli a chi ne ha bisogno. Forte, no? Sì, proprio così. Perché anche noi vogliamo dare il nostro contributo, in questo momento così difficile. Quindi avevamo questa pagina web dove le persone possono, a tutt'oggi, diciamo, richiedere un computer e proporre una donazione. C'è un sistema di ticketing che abbiamo implementato usando OS Ticket e, diciamo, abbiamo professionalizzato e industrializzato la nostra azione nel nostro piccolo per essere efficaci. Questa è la pagina delle richieste che vedete. Qui può essere proposto o richiesto appunto un computer. Qui abbiamo la forma di richiesta. Nel contesto provinciale, dunque, adesso il concetto è come proseguire. Quindi stiamo proseguendo con i contatti con la sovrintendenza delle scuole italiane, che fornisce FUS, sempre. FUS si evolve e noi lo seguiamo nella variazione delle cose. Le scuole tedesche in provincia di Bolzano non hanno, non usano FUS. Paolo prima non ha raccontato tutto. Ha detto una cosa, ma non ha detto che FUS viene utilizzato dalle scuole di lingua italiana. Le scuole di lingua tedesca hanno optato per un prodotto diverso, proprietario. Ecco. E la ripartizione informatica, di informatica della provincia di Torno di Bolzano usa sempre soluzioni proprietarie in cloud. E questo è il contesto in cui ci troviamo a muovere. Nel 2020 l'assessore annunciava la migrazione di FUS a un altro prodotto. Finora non è ancora successo niente. Sta passando la legislazione e la legislatura. Fra un po' andiamo a nuove elezioni. E di questo annuncio a grandi lettere non si è visto più nulla. E invece abbiamo consegnato FUS e computer con FUS anche a famiglie che hanno ragazzi che frequentano la scuola tedesca. Perché non potevano comprarlo. L'hanno chiesto, l'hanno avuto. FUS viene consegnato in lingua tedesca. Abbiamo anche consegnato delle macchine installate in inglese. Abbiamo consegnato delle macchine installate in ucraino. Perché nel periodo dell'Ucraina eravamo ospitate delle persone, dei ragazzi ucraini che dovevano collegarsi alle loro scuole in Ucraina. Insomma, tutto questo è stato reso possibile. Ecco. Quindi abbiamo avuto questa azione sostenuta da una rete di volontariato, di associazioni di volontariato. e adesso cerchiamo di andare oltre e di vedere, di coinvolgere anche ragazzi giovani che ci aiutano nell'installazione ma anche nello sviluppo di nuove idee. Come la vediamo? Sarebbe bello aiutare FUS e SchoolSwap creando una community italiana che si occupi e propaghi questa cosa. Paolo ci ha detto appunto che FUS sta travalicando i confini della provincia. Speriamo che dovremmo fare la stessa cosa con un progetto come SchoolSwap. Che, sottolineo, è un progetto di reuso e quindi importante. Qual è il valore economico a proposito di una cosa come SchoolSwap? Possiamo valutarlo, ma fate un conto rapido. Il conteggio economico lo lascio a fare a ciascuno di voi. 700 computer, mediamente per installare una macchina, tranne andarla a prendere, portarla davanti e indietro, eccetera, comporta circa 10 ore di lavoro. Fanno 7.000 ore. Voi pensate a quanto lavora una persona all'anno e vi rendete conto del valore economico che un progetto così fatto nonchalance, diciamo, può portare. Ecco, io a questo punto inviterei un attimo Anton Aure a parlarci di alcune cose. Paolo, Anton De Totoni è presidente dell'Ubizetta di Bolzano, è un attivista da specolare tempo, ci conosciamo da una vita, per piacere e sviluppaci questo tema che tu conosci molto bene. Posso toglierlo? Lo puoi passare. No, toglierlo proprio. Perché, devo dire, io sono venuto qua per un altro motivo a incontrarvi, ma devo precisare, Digo, quando abbiamo lavorato per School Swap negli ultimi anni, non ero presidente, ero socio, semplice socio, e se tu parli di presidente, devo dire che io rappresento solo una metà del cielo, perché l'altra metà sta seduta lì, la Natascia. Dai, poi alzati che la gente si vede. Ecco, e lei in un certo senso si potrebbe anche pensare come un ulteriore sviluppo dell'idea di School Swap, lei ha l'idea di uno smartphone deguglizzato che può servire per una comunità nelle scuole d'infanzia per scoprire la realtà in comunità. Ok, non dico altro, perché parliamo di School Swap. Questo libro, Digitale Mündigkeit, è finito per un semplice motivo. Digital Courage l'avete già sentito una volta. Ecco, questo libro è stato scritto nell'ambito di Digital Courage. Dietro a questo concetto c'è il concetto del cittadino consapevole. Ok, però, noi parliamo di School Swap e vi devo dire, School Swap per me è un miracolo. È un miracolo che esiste. È un raggruppamento di cinque associazioni, come Diego ha ricordato, è nato dall'UGBZ, e ha avuto un partner associazione degli anziani. Quello che bisogna aggiungere è che dopo si è aggiunto un altro partner, il servizio giovani di Bolzano. E si è aggiunto un altro partner, la San Vincenzo Fincenske Manchef della provincia di Bolzano. e si è aggiunto un quinto partner, FUS. Perché FUS è un progetto di soste, però è anche la sovrintendenza italiana, no? E il fatto che partecipa a questo progetto ha un significato. Perciò, cinque partner che portano avanti, senza soldi. Quanti PC hai consegnato? 700. Ok, va bene. Il lockdown non c'è più. Vi posso però dire che negli ultimi tre giorni sono arrivati 15 richieste di PC erano o di famiglie, mamme con bambini che non avevano PC, famiglie migranti che hanno, dove le scuole hanno chiesto un PC per poter insegnare la lingua a scuola. Ecco, siamo messi abbastanza male, c'è parecchio da fare e ci vuole tanto coraggio digitale per andare a... Ok. Grazie Anton di queste precisazioni. Siamo in chiusura? Ok. Allora, un applauso direi, perché a loro... A tutto il gruppo di Nipolzano, se avete delle domande al volo, penso che possono anche un attimo risponderci al volissimo. Se qualcuno ha delle domande. Andrea. Sì, una velocissima. È in qualche modo imparentato tecnicamente con Linux Terminal Server Project? Con LTSP. Allora, non l'abbiamo mai utilizzato, forse è stata fatta qualche sperimentazione nelle scuole in lingua italiana, però nelle scuole in lingua tedesca è in uso. In particolare, nella scuola Max Valier, Gewerbe Oberschule, TFO, viene utilizzata ancora prima che partisse FOS. È tuttora in uso. Tuttora in uso. Sì. Esattamente. Il progetto Debian Edu, Debian Edu Scuole Linux, invece lo utilizza in modo, diciamo, preponderante, perché appunto il server che si installano includono anche un server LTSP. Un'altra domanda da Igor. Sì, una domanda relativa al Cyber Resilience Act. Vi può dare dei problemi? Ma adesso è il momento non ne stiamo parlando e pensiamo che nel breve termine non darà problemi per quanto abbiamo messo in piedi finora. Però tra, diciamo, all'interno del nucleo del nucleo FOS, dell'intendenza, abbiamo iniziato effettivamente a pensarci seriamente. Ma sono altri, ti dirò, i problemi che ci preoccupano in questo momento. Per, diciamo, per come vengono trattati certi argomenti legati al digitale nelle scuole. Manca molta formazione. Cerchiamo di fare formazione ai docenti nelle scuole di ogni ordine grado. vengono invitate anche persone dall'esterno perché le persone dall'esterno fanno più breccia che non gli interni dall'interno della stessa scuola. Quindi le preoccupazioni sono altre. Il come i ragazzi usano i loro dispositivi a scuola, il fatto che vengano, seppure ad esempio i regolamenti delle scuole dicano i ragazzi non possono tirare fuori il cellulare, deve rimanere spento in cartella e parlo delle medie tipicamente, poi noti che magari sono alcuni docenti che chiedono ai ragazzi di tirare fuori il cellulare ed utilizzare degli applicativi che lasciano un po' il tempo che trovano proprio per il dove vengono trasmessi poi i dati personali dei ragazzi. Quindi queste sono le cose che ci preoccupano che hanno fatto in modo che partendo da almeno una scuola abbiamo recuperato del materiale del garante della privacy germanico perché da parte del nostro garante della privacy nazionale non abbiamo ancora diciamo molto ma il garante della privacy germanico fornisce dei libricini proprio legati alla tutela dei dati personali per le scuole elementali e per le scuole medie che con semplici parole presi appunto come materiale didattico da parte dei docenti possono essere utilizzati per fare un po' di formazione in questo senso. bene allora ringraziamo Paolo Eniego con un grande applauso Grazie a tutti.